Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono rallentamenti in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino ed è chiusa l'uscita di Montelupo provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!